eccoci qua ragazzi con questo nuovo video sto finendo di guardare milan roma per adesso il milan vince 3 a 1 contro il giallorossi location un po più diverso perché sono non è mia stanza ma in cucina perché devo correre ragazzi perché poi in sala juventus e devo stare anche poi evitare i video e tutto non riesco a attenzione poi a occasione del milan non riesco poi a riammenerci quei tempi allora ragazzi tutto lo sponsorizzare gamer king lascio qui sotto link in descrizione quindi se volete passateci mi raccomando e anche ragazzi come al solito bar di sfoggi channel link in descrizione e l'istituto di amaya ragazzi che dire ragazzi un milan che gioca meglio cioè nella prima mezz'ora ha giocato meglio è entrato molto meglio in campo la roma fa regali perché la roma ha fatto dei regali assurdi ragazzi ad esempio il fallo di mano di abraham dove di proprio giocatore che invece che togli del braccio tende ad allargarlo e lì e terlande sarà fatto una bella conclusione dove tra l'altro ripartito fa anche una bella parata ma quella bella patra non serve a nulla perché subito dopo poi interviene il bar e da rigore al milano rigore ragazzi che netto c'è non ci non si può dire nulla assolutamente bagiru perché comunque non c'è che si coppa d'africa c'è la fanta calcio giustamente che si non c'è spiazza comunque ripartito giro che comunque al sangue freddo un campione del mondo con la francia i rigori non gli sbaglia quasi mai e quindi spiazza ripartito e il milano trova l'una zero ennesimo regalo della roma ragazzi secondo gara roma stavolta lo fa i bagnets che sul pressing di giugno smessias praticamente tentena un passaggio e quando la passa è troppo corta quella palla per ripartito capisce tutto giro molto bravo anticipare anche il portiere a scartarlo tiro di girù la palla batte sul palo ma bene o male una volta che batte sul palo va verso giugno smessias che comunque l'angola e trova gol del 2 a 0 ragazzi esattamente la roma poi verso fine primo tempo ci crede nel dopo mezz'ora dopo una mezz'ora ha avuto l'occasione con zagnolo però dove secondo me ha tardato troppo a tirare e si è sempre di più diciamo arrivato verso la fine della linea del fondo e quindi tirando ha dovuto trovare il primo palo dove magno è bravo a pararla però sicuramente di zagnolo doveva tirare molto prima e poi c'è il miracolo di magno ragazzi che comunque stasera ha fatto una partita strepitosa su un tiro di zagnolo praticamente ebram ci mette la testa trova una deviazione assurda all'ultimo e comunque nonostante tutto magno ragazzi c'ha i riflessi per fare una parata assurda una parata assurda ragazzi assurda cosa succede è spulso mancini ragazzi assurdo ragazzi spulso mancini non ci credo e già comunque è stato anche spulso carlos ragazzi quindi la roma contro la juventus non ci hanno né carlos né mancini assenze pesanti non sono stato rigore adesso andiamo a vedere comunque dicevo la roma ci ha provato con quella direzione di abbranti testa voluta dove però veniva a fare un miracolo assurdo nel calcio d'angolo successivo ragazzi la palla viene marata fuori tira lorenzo pellegrini e di nuovo abbranti mette non la testa stavolta ma la zampata la gamba e questa volta riflessione così netta che anche magno non riesce a parare e quindi trova il gol del e trova il gol quindi del diciamo del 2 a 1 dove la roma accorcia comunque calcio di rigore ragazzi andrà ibrahimovic poi nel secondo tempo ragazzi che c'è da dire nel secondo tempo la roma ha continuato ad attaccare ci ha provato ci ha provato con lo stesso miti italian da fuori dove anche di meglio ragazzi fa una bella prata qua ibrahimovic sbaglia lui patrissio parla di rigore ragazzi è brevi amici quei rigori ragazzi non ci sa tanto fare ora riparte la roma però mancano 20 secondi e dicevo ragazzi alla fine ci prova ancora a roma nel secondo tempo ha avuto l'occasione con con abraham dove comunque copre bene il palla si gira e però magnuno si distende bene la para e un'altra occasione dove praticamente da fuori aria amiche italiani da fortissimo magnuno fa una bella parata perché comunque quella pari l'avevi dall'ultimo passa in mezzo a 300 mila maglie sulla ribattuta c'è i bagnes in fuorigioco che ci prova ma anche quella lì ragazzi l'aveva parata praticamente magnuno però era fuorigioco quindi era da annullare il milano ha creato qualcosina ha creato qualcosina l'ha fatto con brain diaz dove con un tiro veramente bello ragazzi spacca la traversa come battissio va un po a vuoto forse ingannato dal traiettorio del pallone brain diaz viene alla traversa lo stesso brain diaz che poi c'è l'occasione praticamente di fare un tiro al giro dentro la di rigore però dove non inquadra la porta e la palla va fuori un calcio di punizioni di florenzi ragazzi dove praticamente non prende l'incrocio dei pali l'incrocio dei pali pieno ragazzi quello di florenzi e poi ragazzi i cambi fanno la differenza perché poi entrano ibraimovic entrano leao e ragazzi questi qua comunque fanno sono gli autori del terzo gol del milano pala lunga per ibraimovic che come sempre molto bravo a coprire pace a fare la sponda di petto per leao che comunque grazie al suo fisico riesce a non riesce a spostarle comunque ti fa delle sponde perfette leao in corsa prende il pallone campo aperto va proprio davanti al portiere freddo e glaciale tira forte sotto la traversa e lì ripartissimo non può fare non può farci niente adesso abbiamo visto insieme che praticamente mancini è stato espulso poteva anche il milano fare il 4 a 1 ritrova con il rigore di ibraimovic ma così non è stato ragazzi perché ibraimovic ha sbagliato il rigore la partita è finita il milano vince 3 a 1 è importante ragazzi una doma che ripeto avrà delle assenze molto pesanti perché senza casa dopo i mancini e la prossima c'è la juve c'è la nostra amata juventus la mia amata juventus quindi per noi in parte viene vengono bene queste assenze per loro sicuramente peseranno e niente ragazzi che il video può finire qua accordo che devo fare la live re action della juve tutto quindi preparare la postazione tutto se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate sui commenti potremmo sapere voi appunto cosa ne pensate di milla roma per me sarà comunque una bella partita e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere quando iscrivetevi al canale che è importantissimo non costano vedere tanto ragazzi basta che fate clic su iscriviti se siete iscriviti senza costi nulla e mi supporto un casino e vi ringrazio se lo fate lo sapete con i video con i vostri mi fa iscrivere anche loro e altre tecniche politiche così per i vostri video ragazzi ci vediamo dopo con il posto della juve speriamo in bene fino alla fine speriamo il mio creduto bella